Buona visione da... Euromarket Rimini Tempo reale Speciale elezioni Ancora in onda con Tempo reale speciale elezioni abbiamo il piacere di avere con noi Melissa Montanari che è candidata all'Uninominale per il Senato di rappresentanza di Partito Animalista e UCDL l'Unione per le Cure, Diritti e le Libertà Benvenuta Grazie a lei Allora cominciamo con una presentazione personale e anche dell'identità di questo partito di questa realtà che rappresenta in questa tornata elettorale Certo, io sono un avvocato civilista del Foro di Rimini e che poi sono residente a Riccione quindi diciamo che gioco in casa il mio territorio è proprio la provincia di Rimini e ho deciso di candidarmi per UCDL che poi è diventato un partito unico assieme animalista e dieci volte meglio perché da tempo seguo l'avvocato Grimaldi dall'inizio della pandemia UCDL è un partito nuovo, sì perché è stato fondato, costituito aprile 2022 primavera, aprile, maggio 2022 però non è nuovo la gente di cui ne fa parte quindi molti candidati provengono dal comitato delle terapie domiciliari che tutti ormai penso che conoscano che è quel comitato fatto di medici che dall'inizio della pandemia si sono riuniti per aiutarsi tra di loro per poi aiutare il cittadino il cittadino che in un momento di piena pandemia non veniva ascoltato, curato, lasciato in casa e a volte anche senza cure in attesa che la situazione peggiorasse per poi essere ricoverato ecco, loro si sono uniti e a volte anche andando contro perché poi sono stati alcuni anche successivamente, sappiamo, sospesi si sono uniti a un certo punto l'avvocato Grimaldi proprio con quell'idea di gratuitità tra i medici ha chiesto a chi era interessato a livello nazionale agli avvocati, giuristi e anche volontari successivamente nel garantire questo apparato questo social perché poi tutte le comunicazioni venivano fatte attraverso social questa comunicazione col cittadino e io ho ben aderito perché perché lo facevano i medici e mi sono chiesta perché anche noi non possiamo fare la stessa cosa è stato molto impegnativo innanzitutto perché si pensava che doveva essere una cosa di pochi mesi invece sono due anni e mezzo e ancora siamo all'interno a dare consulenza gratuita a volte è solo telefonica ma a volte è proprio fatta di atti di documenti di lettere di diffide ma allo stesso tempo molto gratificante e di sicuro uno degli aspetti più importanti dei principi del partito che è una conseguenza sempre del comitato è la sanità la sanità e l'attenzione al cittadino in un momento molto particolare quindi di malattia ma non solo perché loro gli curano il corpo e noi tutti gli aspetti burocratici ognuno di noi si suddivideva il territorio io sono della provincia di Rimini ma facevo anche Emilia Romagna o tutto a livello nazionale si doveva essere solo una consulenza telefonica e ci passavano le richieste di aiuto e alcune erano semplici risposte telefoniche per assicurarli perché in un momento in cui il governo ha posto degli obblighi obblighi di tipo vaccinale ma non solo anche obblighi mascherati in un certificato verde del Green Pass per cui dovevano averlo se volevano accedere al lavoro soprattutto per alcune categorie lavorative o successivamente perché tu avevi compiuto 50 anni e obblighi che derivavano da un certificato che se visto poi ormai l'opinione pubblica ha capito che nulla aveva di scientifico era solo politico sicuramente e serviva solo come mezzo per poter arrivare a quello che fondamentalmente volevano quindi l'obbligo vaccinale per tutti noi abbiamo tutelato tutti i cittadini contro avevamo richieste di ogni tipo la gente ti chiamava perché magari il suo medico lui aveva problema di salute e il medico non gli prescriveva degli esami prima del vaccino oppure gente che ti chiamava perché non aveva il green pass e la madre questo qui mi è successo proprio una cliente poi di cattolica e la madre stava morendo in fin di vita e non la facevano entrare neanche a dargli il saluto ho dovuto intervenire con il direttore dell'ospedale ma che lui è stato anche molto gentile ma non tutti lo sono stati nei vari percorsi dei mesi oppure siamo intervenuti con genitori che noi le facevano assistere a scuola alle riunioni con gli insegnanti perché? perché non avevano il green pass e una cosa molto particolare è successo nelle famiglie si è creato un clima veramente di divisione e discriminazione all'interno proprio delle stesse famiglie dei parenti del vicinato ti chiamavano perché? perché un genitore voleva denunciare l'altro perché voleva fare il vaccino al minore quindi i punti fondamentali che noi abbiamo sempre portato avanti sicuramente è questo quindi libertà di scelta terapeutica e abolizione del green pass ma anche abolizione di tutte queste discriminazioni che ci sono state finora quindi ripristino di tutti i lavoratori al lavoro e della reintegrazione non solo lavorativa ma anche retributiva perché a molti gli è stato tolto non solo la ritribuzione ma anche la pensione di un domani perché venivano cessate anche ogni contributo che loro potevano accumulare nei mesi e negli anni perché qualcuno è stato sospeso per bene un anno ormai e l'altro principio cardine che riguarda la salute a livello nazionale è proprio il concetto di ripristinare perché abbiamo visto in questa pandemia che un problema sanitario è stato proprio quello che la sanità oggi più che mai abbiamo visto che è molto regionale ognuno aveva le sue cure a volte tu e non solo in questa pandemia perché poi riguarda non solo il problema covid ma anche altri tipi di epatologie tu devi avere la fortuna oggi di essere nato in una regione che abbia posti letto più di altre che abbia cure migliori più di altre e quindi invece ripristinare la territorialità la territorialità dando più competenze sicuramente al medico di medicina generale proprio perché se lui in prima persona a curare i suoi pazienti che meglio di lui non li conosce nessuno come il vecchio medico di famiglia che c'era una volta nei paesi e ad esempio io ho il mio ginecologo che lui è privato però lui ha nel suo studio altri strumenti per evitarmi a me di andare a fare la fila all'asle o perdere molto tempo perché poi le visite te le danno molto dopo così il medico di base potrebbe anche avere lui cose essenziali alla prima visita quindi semplicemente un elettrocardiogramma o la visita quindi il cuore e senza dover sempre andare a occupare dei canali che magari servono per altro e queste immagino siano le cose che in un anche prossimo parlamento come prioritario la sanità al primo posto sicuramente perché è la nascita anche del del comitato e quindi meglio di loro certo che non è che sono cose che poi io ho confrontato con medici in prima persona perché io posso dire la parte della giustizia ecco che è il secondo punto sicuramente importante sia nel programma ma anche che intendiamo portare al Parlamento se ci sarà poi la possibilità perché la giustizia tempo fa era stata fatta una rifugia cercato di fare un referendum che poi non è passato sappiamo benissimo ma uno dei punti principali del referendum era la separazione delle carriere fra magistrato e pubblico ministero quindi giudicante inquisitorio sappiamo bene che oggi uno può fare il lavoro da magistrato e l'anno dopo fare il PM che da una parte è vero che gli dà più competenze e qui non c'è dubbio però dobbiamo guardare qual è il male minore e nella realtà delle cose soprattutto nei piccoli tribunali come anche da noi cioè il fatto che un magistrato può fare così sia il pubblico ministero che altro è inevitabile un conflitto di interessi perché? perché il pubblico ministero di oggi che ieri era giudice e magari ha fatto amicizia ha collaborato con altri magistrati o anche ci è andato semplicemente a cena come può essere terzo imparziale nel momento in cui diventa inquisitore fa parte della cosa e un altro tema della giustizia molto importante è che oggi siamo l'unico paese quasi in Europa almeno che io sappia in cui i magistrati non rispondono mai di una loro responsabilità civile che ormai tutti ce l'hanno ce l'hanno i medici ce l'abbiamo evocati che chiunque ti può fare un'istanza al consiglio dell'ordine i magistrati no e molti pensano che perché così verrebbe legato il loro lavoro ma io personalmente penso che invece tu sei più responsabile di quello che fai perché sai che se poi e ciò non vuol dire mettergli dei freni ma vuol dire fare il loro lavoro nel miglior modo possibile abbiamo superato già la metà del tempo ci sono tanti temi quindi andrei ecco questo è un tema attuale dell'energia i costi dell'energia abbiamo anche legato a questo dibattito quello sulla possibilità di impianti eolici nella nostra costa ecco quali sono le vostre proposte l'energia oggi è un tema molto caldo perché stanno arrivando le bollette a tutte le famiglie e sicuramente siamo per calmierare i costi delle bollette perché l'inverno è appena iniziato e ancora non abbiamo neanche acceso i riscaldamenti quindi figuriamoci cos'è il proseguo e quindi sicuramente tutti i comuni dovrebbero intervenire a lasciare una linea di bollette basse e incentivare loro integrare loro con i soldi che ormai ogni comune ha preso dal governo e quindi ce li hanno sta solo utilizzarli per il bene delle persone e nel frattempo nel frattempo che non sarà una cosa imminente però siamo anche in ritardo molto rispetto agli altri paesi ed è quello sicuramente incentivare il fotovoltaico perché se tu vai all'estero non c'è una casa anche nei paesi più poveri della Spagna che non ha sul tetto bacini di acqua di contenimento delle piogge e fotovoltaico ce l'hanno tutti l'Italia no inizia adesso con i bonus però c'è ancora troppa burocrazia perché una persona non può aspettare di fare tutte le pratiche del bonus e poi vedersi che magari recupera le detrazioni tra dieci anni non è questo l'aiuto che chiedono le famiglie e l'altra domanda che mi ha fatto riguarda le paleoliche nel nostro mare e tema che mi tocca da vicino essendo della zona da sempre sono nata qua e quindi inizialmente anni fa era venuto già fuori questo problema e non è stato poi attuato perché si pensava molto che il territorio venisse danneggiato e forse all'epoca anche io avevo qualche dubbio in più però oggi come stanno le cose con l'evoluzione anche delle tecnologie e poi leggevo proprio in questa settimana che hanno modificato un po' il piano di regolamento delle strutture per cui sì noi siamo favorevoli perché è un'energia naturale e come lo vogliono fare sembra che hai un introito di energia che basta a 120.000 abitanti per cui sarebbe perfetto per zone turistiche come le nostre di conseguenza hanno deciso di allungare i chilometri di distanza che vanno dai 18 a 19 chilometri e di farle molto distanziate l'una dall'altra e saranno 51 nel progetto distanziate addirittura da chilometri e l'unica cosa che dovrebbero anche incentivare l'utilizzo cioè molti posti ad esempio sono stata a Rodi là sono diventati parchi eolici sono diventate attrazioni turistiche erano su una montagna qua da noi potrebbero essere utilizzate ugualmente incentivare anche il turismo e quindi magari fare anche delle piattaforme da poter visitare spiegare anche alle scuole e oltre a essere di ricerca perché no l'unica cosa che sarebbe modificare la legge che c'è oggi perché l'energia che deriva dalle eoliche va all'elettricità a livello nazionale e quindi non ne beneficia in primis il territorio qui una modifica sarebbe fondamentale abbiamo ancora pochi minuti quindi cerchiamo di toccare tutto qualche altra proposta per il turismo per anche valorizzare questo settore che per noi è molto importante allora guardi per il turismo innanzitutto la viabilità perché già arrivare qui e parcheggiare oggi è stato Rimini è una cosa che ho sentito anche altri che l'hanno proposto però fondamentale sono i mezzi noi abbiamo dei bus adesso c'è il metromare però anche il metromare ha dei costi molto elevati 2,50 euro tratta che tu se una famiglia di 5 persone andate in ritorno deve spendere 20 euro quindi tu devi incentivare anche con i costi l'utilizzo e così come i bus cioè io tutte le volte che rientro dalla vacanza che magari vado in zone dove utilizzo solo mezzi pubblici dico ritorno e voglio utilizzare mezzi pubblici impossibile perché tu non sai gli orari non sai dove passa ad esempio a Riccione per prenderlo per venire in Rimini devi andare in paese o in centro allora tanto vale che se devo prendere la macchina per arrivare lì faccio 8 chilometri in più e sono qua invece molti paesi o isole utilizzano questo metodo che tu i bus passano costantemente quindi fanno le vie principali che può essere mare statale e a volte il centro perché in alcune zone ci può essere anche un centro molto lontano se dal mare che dalla statale e tu sai che ogni 20 minuti ogni 40 passano di continuo quindi la gente va tutta sulla soglia e arriva lì un'altra cosa per il turismo è eliminare molta burocrazia perché da noi qualsiasi progetto che tu voglia fare ti può anche utilizzare il mare di sera perché no da noi ci sono dei vincoli enormi oppure anche i bar sulla spiaggia se vogliono fare musica e anche queste sono delle cose che andrebbero a vantaggio ad avere un turismo anche più lungo la sera oppure mensile perché non è detto che la stagione debba finire il 15 di settembre quando a volte fino a ottobre può anche andare benissimo al mare però non c'è non c'è niente e chiedo anche sulla sicurezza una risposta per me è un problema ho sentito che qualcuno diceva nelle varie interviste non solo da voi altrove che il problema della sicurezza su Rimini sulle nostre zone era più fomentato dai giornali che non dalla realtà io la penso esattamente il contrario sono sempre sono una persona che sono sempre uscita mi piace uscire di giorno di sera e ho sempre vissuto queste zone sin da piccola quindi adolescente che venivi tranquillamente con le compagnie quindi so com'era e com'è oggi e da noi la sicurezza è un tema che c'è ed è inutile dire che non è così evidente perché lo è e nel momento in cui tu non lo non capisci che c'è un problema non farai niente per eliminarlo oppure renderlo meno attivo e quindi dovrebbero incentivare sì i mezzi forze dell'ordine soprattutto in alcuni posti sensibili dove tu sai che ci sono delle problematiche tipo compagnie che spesso arrivano anche alle mani tra di loro oppure posti sensibili come sono le stazioni che ormai è un bivaccamento comune di chiunque e quasi tu persona normale hai quasi paura di arrivare in stazione anche la notte da sola ma anche addirittura a Riccione volevano quasi togliere dei posti della polizia vicino al mare perché vanno in base alle percentuali della popolazione ma tu dovrai andare invece in base al turismo quindi nei periodi caldi qual è il numero del turismo in base a quello che tu devi poi incentivare carabinieri polizia militari perché no su una questione delle concessioni dei maniali una risposta flash in questo momento immagino che i bagnini siano tutti sul filo del rasoio per la Bolkestein che noi siamo contro assolutamente le aste pubblici italiane europee perché dobbiamo sempre concentrarsi sul made in Italy e i nostri bagnini nel nostro territorio soprattutto la Romagna è vista come fiorall'occhiello anche da altre parti della regione dalla Liguria al sud che loro avranno il mare ma noi come diciamo sempre abbiamo i bagnini che ogni anno fanno delle migliorie sicuramente però non possono stare sempre così a vita quindi trovare una conciliazione apportare delle modifiche ma non così drastiche con la paura che poi delle particolarità come noi le spiagge i bagnini che sono qui da una vita generazione generazione è vero perché io magari vado nella mia spiaggia che sono andata anche quando avevo dieci anni però magari è il bello di ritrovare questa poi cambi ma lì ogni tanto ritorni quindi è bello ritrovare anche la stessa gente però ecco magari aumentare sicuramente i canoni oppure fare in modo che non vada sempre in eredità così quindi fare dei paletti così come fare dei paletti anche alle spiagge perché solo da noi il bagnino arriva fino alla battigia ma se tu inizi a girare all'estero di solito il bagnino ha una metà e l'altra spiaggia libera anche questa potrebbe essere una proposta siamo 30 secondi siamo arrivati un po' di corsa comunque 30 secondi per un appello al voto finale vi chiedo allora l'appello è innanzitutto di andare a votare perché ci sono in questo momento delle campagne per cui dicono che tanto o l'opinione comune che tanto se vai a votare non cambia niente non cambia niente però i primi di queste persone a dire che non vanno a votare sono i primi che non gli va mai bene niente qualsiasi cosa si faccia quindi andate a votare perché è un nostro dovere innanzitutto ed è un diritto acquisito e soprattutto i giovani anche che hanno questo forse disinteresse nella politica perché non sono stati mai presi in prima persona a partecipi e l'altro è votato il CDL il partito animalista i dieci volte meglio in primis perché ci siamo sempre stati è un partito che c'è sempre stato quando la gente aveva bisogno d'aiuto quindi in prima persona si sono esposti i medici ci siamo esposti noi giuristi e per chi ci ha conosciuto in questi due anni e mezzo quello che si è sempre sostenuto si è fatto anche senza avere poi niente ritorno economico e questa forse parla da sé noi ringraziamo Melissa Montanari candidata all'uninominale del senato per partito animalista dieci volte meglio e UCDL unione per le cure i diritti e libertà grazie per essere stata con noi grazie a voi grazie temporale speciale elezioni torna con il prossimo candidato tempo reale speciale elezioni questo programma è stato offerto da Montega Chemical Solution Sara Angelini calzature ed abbigliamento Ruggeri Estintori la tua sicurezza dal 1975 Pizzeria Primo Poi Le Befane Shopping Center Jolly Elettronica dal 1987 al servizio delle aziende Euromarket Rimini Grazie a tutti Grazie a tutti